Margherite Bianche alle pareti per aiutare i pazienti nel percorso di cura. I pannelli sono stati installati nella sala d'attesa della radioterapia dell'ospedale San Donato di Arezzo. La nostra volontà è quella appunto come operatori di poter curare il paziente a 360 gradi, quindi è assolutamente importante un percorso di cura che passi attraverso la tecnologia, la radioterapia e i farmaci, ma è altrettanto importante curare il paziente a 360 gradi, poterlo accogliere e sostenere anche da un punto di vista psicologico, relazionale e credo che anche un ambiente accogliente con degli abbellimenti, come potete vedere, che riguardano quest'ambiente floreale alle pareti, le luci, il cielo, siano di assoluta importanza e di grande anche sollievo per chi deve affrontare un percorso di cura che è molto difficile. A donarli la tribù dei nazi rossi che da oltre 20 anni con i suoi clown collabora con l'ospedale Aretino. Ci tengo a ricordare che l'anno prossimo saranno 25 anni di presenza qui a San Donato e quindi noi di questo siamo orgogliosi. Perché portare un sorriso? Perché ci crediamo? Perché è una cosa provata scientificamente che ci dà dei risultati veramente importanti, perché i medici qui sono assolutamente all'avanguardia e noi siamo veramente fortunati ad Arezzo. Però trovare anche un ambiente che ti rilassa senz'altro aiuta ad affrontare meglio le cure. Una donazione dal valore di 8.000 euro che rientra nel progetto di umanizzazione delle cure portato avanti dall'ospedale di Arezzo. Noi abbiamo molto a cuore gli aspetti di accoglienza e di umanizzazione dei nostri ambienti, soprattutto degli ambienti all'interno dei quali accogliamo le persone più fragili, quelle che hanno più bisogno di sentirsi a proprio agio e magari più a casa che noi in un ospedale. Quindi qualsiasi iniziativa che ci viene proposta la sposiamo molto volentieri. Grazie.